Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Croce Rossa, consegnate le benemerenze che offerto un aiuto al Comitato di Marotta Mondolfo Maturità al tempo del Covid, nelle Marche sono quasi 14.000 gli studenti che affronteranno l'esame di Stato Senza segnaletica né cordoli e in totale degrado, il Movimento 5 Stelle denuncia la pericolosità delle piste ciclopedonali di Via Visconti a Fano Omo transfobia, la diocesi come la CEI, guardiamo preoccupati la proposta di legge stasera su Fano TV alle 21.20, uno speciale con interviste esclusive Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Questa mattina la Croce Rossa di Marotta Mondolfo ha consegnato le benemerenze alle aziende e alle associazioni che hanno dato un contributo durante l'emergenza Covid-19 Applausi, emozioni e la consapevolezza che l'Unione fa la forza Sono loro i protagonisti della cerimonia che si è svolta questa mattina nella sede della Croce Rossa di Marotta Mondolfo Un momento per ringraziare chi ha sostenuto i dipendenti e i volontari durante i mesi di lockdown Decine di cittadini, aziende, enti e associazioni hanno infatti donato denaro o beni di prima necessità C'è anche chi ha regalato un passo caldo al comitato sempre in prima linea nell'emergenza sanitaria Così questa mattina il presidente Luciano Seri, insieme ai sindaci di Mondolfo e San Costanzo ha consegnato un riconoscimento ai benefattori Un minimo che la Croce Rossa poteva fare è dare una benemerenza, un riconoscimento a queste persone che in questo periodo, nonostante grosse difficoltà economiche, parlo per le attività che ci sono nel territorio hanno dato un grosso sostegno alla Croce Rossa, ci hanno fatto sentire un pochettino meno in soggezione perché questo coronavirus ha messo a dura prova anche noi, tra virgolette, che dovremmo farlo senza nessun problema Quanti volontari sono scesi in campo in questo periodo? Abbiamo fatto una scelta, gli più anziani li abbiamo lasciati a casa per motivi della pandemia I più giovani che hanno dato la disponibilità sono stati tantissimi, parliamo di 15-20 volontari e che per noi è tanto, e i 12 dipendenti che hanno lavorato sempre quindi un numero abbastanza elevato per questo momento qui Lavoro che continua in questa fase perché il nazionale sta inviando ancora parecchio materiale tipo buone spese, mascherine, farmaci, distribuzione di pigiami per i bambini e noi siamo in stretto contatto con le tre amministrazioni, Mondolfo, San Costanza e Monteporzio i servizi sociali ci danno la possibilità di avere nominativi di persone bisognose e noi distribuiamo Sono stati mesi drammatici, ha raccontato il Presidente Abbiamo superato tante situazioni come alluvioni e terremoti ma questa pandemia ci ha messi a dura prova Nella difficile battaglia contro il virus ogni contributo è stato fondamentale e ha avuto un valore enorme Dal 10 marzo ad oggi la Croce Rossa ha eseguito 160 interventi per persone risultate positive al Covid-19 ha prestato oltre mille ore di servizio a disposizione del 118 e quasi 1100 ore per trasportare i cittadini nei vari ospedali delle Marche per un totale di 46 trasferimenti A ringraziarli per il lavoro svolto è stato anche il Sindaco Nicola Barbieri Ci siamo riscoperti più uniti che mai, ha detto il primo cittadino abbiamo collaborato tra sindaci e c'è stato un grande senso di comunità Ognuno ha fatto qualcosa per gli altri senza lasciare indietro nessuno Ne usciamo più forti di prima L'iniziativa importante è quella di questa mattina che è stata organizzata dalla Croce Rossa dal Comitato di Marotta Mondolfo ed è un'opportunità anche per il nostro comune per ringraziare le associazioni di volontariato, quindi Protezione Civile, Croce Rossa, Caritas ma tante associazioni di volontariato ma anche i singoli privati che hanno fatto le donazioni le forze dell'ordine, anche il personale degli uffici comunali davvero c'è stato un grande lavoro di squadra per superare queste emergenze ed era giusto ritrovarci qui appunto per ricordare quello che è stato un periodo difficile per tutti Il Comitato è stato a servizio anche dei comuni di Monteporzio e San Costanzo c'è stato un grande senso di fraternità, ha commentato Filippo Sorcinelli e questa non ha avuto confine Sono stati veramente fondamentali ed eccezionali, veramente non saprei come avrei affrontato questa emergenza sanitaria senza l'affiancamento fraterno, devo dirlo, della Croce Rossa italiana sezione di Marotta, quindi ringrazio tutti i volontari che ci sono stati vicini ringrazio il Presidente, il Cavalier Seri che fa parte anche del nostro COC che abbiamo aperto prontamente e devo dire che sono intervenuti in molte situazioni i ragazzi della Croce Rossa di Marotta consegna dei buoni spesa, consegna delle mascherine e tante altre piccoli e grandi cose di supporto sia alle persone in isolamento volontario sia alle persone in isolamento obbligatorio e devo dire che questa collaborazione con la Croce Rossa l'abbiamo attivata fin da subito fin dalle prime ore e quindi gli sono particolarmente grato oggi E adesso invece parliamo della maturità, maturità al tempo del coronavirus perché nelle Marche a partire da domani oltre 14.000 candidati dovranno affrontare la prova orale dell'esame di Stato inoltre saranno operative 352 commissioni costituite da tutti i commissari interni che dovranno giudicare i ragazzi delle 695 classi chiamate a sostenere l'esame il lavoro maggiore sarà nei licei con 6.400 candidati oltre il 47% del totale seguono i tecnici ed ultimi i professionali E adesso ci spostiamo invece nel quartiere di Sant'Orso a Fano perché il Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione per denunciare la pericolosità della pista ciclopedonale di Via Visconti Vediamo Manca la segnaletica sia verticale che orizzontale ed anzi è rimasto un cartello della vecchia strada in cui viene indicata la fine del tratto con il limite di 30 km orari incentivando così l'aumento di velocità in concomitanza dell'inizio della ciclopedonale La pista di Via Visconti a Sant'Orso di Fano viene ritenuta molto pericolosa dal Movimento 5 Stelle che ha presentato un'interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta come mai non sia stata ancora messa in sicurezza Infatti con la realizzazione delle opere compensative questo tratto che prima era accessibile a tutti i veicoli ora è dedicato soltanto a pedoni e ciclisti Peccato che di fatto rimane possibile il transito a chi con scarso senso civico con scooter, a pecar ma anche con auto e furgoni continua a percorrerla per raggiungere più velocemente l'autostrada Qui vediamo la parte brutta delle opere compensative di Fano che non sono state ben utilizzate dal Comune Società Autostrade ha fatto una strada nuova per portare le auto in autostrada cosa molto utile e ben riuscita però questa strada Via Visconti di fatto è stata chiusa al traffico ed era l'unica stradina che portava la popolazione di Sant'Orso alla chiesa di Tre Ponti che fa parte della parrocchia di Sant'Orso è stata trasformata questa parte finale in una pista ciclabile però pista ciclabile che non è segnalata all'inizio infatti qui purtroppo ci possono passare ancora i ragazzini con Matorino ci passano gli adulti in scooter per andare prima in Via Papiri o anche le auto, addirittura i furgoni per raggiungere prima l'autostrada risulta pericolosa perché appunto non è ben segnalata e non si è capito ancora se hanno finito oppure no i lavori in questo pezzo qui già molto prima del lockdown non c'era più nessun operaio la strada non è asfaltata, non ci sono cordoli ci vengono a passeggio i bambini con i cani, non ci sono cestini ma soprattutto è pericolosa perché non si vede se arriva qualcuno, a parte la vegetazione che non è appunto ben delimitata, basterebbe solamente dei piccoli accorgimenti dei paletti o delle segnalazioni un po' più forti per far capire che questa qui è diventata una pista ciclabile ed è importante perché l'amministrazione si vanta delle piste nuove che sono state fatte, cosa bene, positiva però anche quelle in periferia sono importanti se no si fa lo stesso discorso della strada per Pesaro che l'amministrazione considera solamente dalla Flamina verso nord senza considerare Ponte Sasso, Metauriglie e Torrette anche la ciclabile in periferia è importante perché questo è l'unico collegamento per poter andare da Sant'Orso alla chiesa di Tre Ponti Nuovi numeri di telefono per il coronavirus nelle Marche da ieri il numero verde non è più presidiato dagli operatori sanitari si può chiamare il numero verde nazionale dunque 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 inoltre per le informazioni sanitarie sarà necessario contattare il proprio medico curante o la guardia medica mentre per le informazioni non sanitarie occorre chiamare la sala operativa della protezione civile e adesso parliamo invece della candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2022 perché il sindaco di Fano Massimo Seri questa mattina ha incontrato gli operatori della cultura per fare il punto della situazione Stiamo lavorando sul dossier a dire la verità l'avevamo già terminato eravamo pronti per presentarlo ma purtroppo a conseguenza della pandemia c'è stato un rinvio e poi un ulteriore rinvio adesso non è più Capitale Cultura 2021 ma per il 2022 quindi noi riadatteremo il dossier anche alla luce di quanto è successo perché la cultura è parte integrante anche di questi processi per quello che riguarda Fano in questi anni abbiamo investito molto e oggi stiamo vedendo anche i frutti e sono convinto che sarà una chiave di successo per la nostra città anche per il futuro sia in termini di qualità della vita in termini di crescita ma anche in termini turistici perché sempre più la gente cerca luoghi di qualità che sappiano esprimere raccontare la propria storia dare e trasmettere suggestioni e far vivere anche emozioni e proprio su questo stiamo lavorando è un dossier partecipato quindi con il contributo di tante intelligenze di tanti creativi della nostra città proprio per questo creiamo anche momenti e occasioni di confronto e uno di questi è proprio mercoledì domani alle 17 ovviamente con gli strumenti tecnologici di questo periodo sarà un'occasione per fare il punto della situazione un'analisi del lavoro svolto fino ad oggi ma soprattutto anche una riflessione sulle integrazioni che vorremmo portare al nostro dossier che vorrei ricordarlo questa candidatura oltre a dare lustro alla città è anche una grande occasione per un piano strategico della cultura perché i contenuti saranno in qualche modo la nostra meta il nostro percorso da perseguire a prescindere da quelli che saranno poi i risultati della candidatura è uno dei tre pilastri delle manifestazioni estive che si terranno a Fano in tempi di fase 2 post coronavirus Fano Jazz by the Sea andrà in scena dal 24 al 31 luglio con la sua 28esima edizione a lui il compito di aprire la strada a passaggi festival e brodetto dopo che compongono il tridente d'attacco dell'estate fanese con il compito di rispettare tutte le normative di sicurezza anti-covid-19 una sfida non solo per l'organizzazione del festival ma anche per l'amministrazione comunale che ha assicurato anche quest'anno il suo supporto economico e di partnership pubblica assieme ovviamente alla Regione Marche che ha confermato il suo contributo economico quest'anno abbiamo parlato anche di teatro a cielo aperto e il festival si inserisce a pieno regime anche in questa circostanza siamo contenti di averlo mantenuto perché ha dimostrato di avere radici profonde ma soprattutto si è radicato nella città questo è un gran risultato l'abbiamo capito anche dall'attenzione e dalla forte richiesta che c'è stata anche nei momenti più bui dove rischiavamo di mettere in discussione anche se in cuor nostro non l'abbiamo mai pensato anche all'organizzazione di questi eventi una manifestazione del calibro raggiunto da Fano Jetson non è una cosa che si organizza in 4 e 4,8 mesi e mesi di pianificazione che a marzo però in piena riorganizzazione ed emergenza coronavirus è saltata totalmente morale della favola impiantare un'edizione degna di tale fama in soli 30 giorni no, è stata una cosa semplice non era scontata come prima cosa naturalmente cercare di capire come mettere in sicurezza gli artisti, il pubblico tutto lo staff perché questa è la prima cosa che naturalmente a cui dobbiamo far fronte che è una cosa inedita non avevamo idea di cosa potesse essere e dopodiché ci siamo messi in moto per capire come il festival poteva essere riorganizzato città e resilienza sono le due parole d'ordine di questa edizione sui generis che dovrà contare molto sui fanesi come pubblico e sul territorio limitrofo avevo individuato due parole che sono appunto questa della città e della resilienza la città diventa protagonista del festival non essendoci più il jazz village il festival si diffonde nella città e l'altro è quella della resilienza perché questo concetto di andare oltre le difficoltà cioè di trarre motivo di riorganizzazione partendo dalle difficoltà e questo mi ha fatto venire in mente che il jazz è stato una vicenda che ha saputo da un dramma come la deportazione come la schiavitù ha saputo portare, alimentare e generare una musica così importante per noi mantenute inalterate formula e spirito green ecologista ed impegno sociale con la grande musica che sarà sempre la protagonista saranno presenti i musicisti che sono più rappresentativi del panorama del jazz italiano sicuramente anche a livello internazionale cito Paolo Freso di Buonaventura Aire Stango Gianluca Petrella Antonello Salis insomma il meglio Fabrizio Bosso il meglio del jazz italiano E adesso invece andiamo a Pesaro per parlarvi di un libro un libro che è stato presentato nei giorni scorsi dedicato ad un gruppo musicale molto conosciuto i Camillas di cui faceva parte anche Mirko Bertuccioli recentemente scomparso a causa del coronavirus è composto da 112 pagine si chiama La storia della musica del futuro il libro dei Camilla su un gruppo musicale pesarese noti per aver prodotto quattro album e conosciuti per aver suonato dal vivo in Italia e Svizzera completato di scrivere a fine febbraio prima che il covid si portasse via un componente della band Mirko Bertuccioli il libro raccoglie una serie di fatti rilevanti interviste recensioni saggi analitici e commenti sulla storia della musica noi siamo andati in un futuro lontanissimo e abbiamo raccontato la musica del futuro al passato quindi è un libro al passato che però parla del futuro rispetto ad adesso quindi è un tempo intrappolato e quindi da questo gioco qui questa premessa abbiamo immaginato e scritto tutto quello che sarà la musica nel mondo della musica quindi dalle classifiche a musicisti più famosi a come noi ascolteremo la musica e da lì vera fuori anche come sarà il mondo la società l'universo nel nostro futuro ma futuro distante il 3000 il 5000 io e Mirko abbiamo fatto queste cose assieme per anni quindi improvvisamente non ci pensi ti trovi in un posto in cui prima essresti stato con lui invece adesso non è più così però credo che faccia parte in qualche modo della cosa stessa che Camilla Serano quello di affrontare le cose esattamente nel momento in cui succedono la presentazione è stata organizzata dal comune di Pesaro in collaborazione con la biblioteca San Giovanni e libreria Catalogo è un avvenimento atteso qui a Pesaro è anche credo la prima presentazione in Italia perché oggi è il 15 giugno in cui si possono iniziare a fare iniziative in presenza e quindi in questo viaggio sulla storia della musica e del futuro parleremo appunto anche del lavoro di Mirko e una delle cose che avrebbe voluto fare Mirko e che ovviamente non ha fatto il tempo a fare era anche la direzione artistica della parte musicale della prossima mostra del cinema e per questo è che abbiamo pensato di fare coincidere questa idea che abbiamo lanciato di dedicare Via Almerici a Mirko in realtà a una frase è una strofa di una canzone dei Camillas che i Camillas stanno scegliendo e quindi la via della musica perché è una via che conduce al conservatorio la via dei negozi di dischi di strumenti musicali eccetera verrà dedicata a Mirko quindi al suo ricordo anche con un suo segno grafico che verrà sicuramente identificato la città di Fano aumenta il suo patrimonio forestale con nuove aree verde di circa 10.000 metri quadrati dopo la festa degli alberi dello scorso novembre che ha visto la piantumazione di un arbusto per ogni nuovo nato nel 2019 è terminato in questi giorni il piano di riforestazione relativo alle opere compensative nello specifico si tratta di piante autoctone per l'assorbimento del carbonio e la piantumazione di alberi in numero doppio rispetto a quanti ne sono stati abbattuti per eseguire i lavori e adesso torniamo a parlare invece della legge in corso di esame alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia oggi la Chiesa di Ocesana ha ribadito facendo la sua la posizione assunta di recente dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana le discriminazioni comprese quelle basate sull'orientamento sessuale costituiscono una violazione della dignità umana trattamenti pregiudizievoli minacce aggressioni atti di bullismo stalking sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini guardiamo con preoccupazione però alla proposta alle proposte di legge contro i reati di omotransfobia continua la Presidenza della CEI anche per questi ambiti non si riscontra alcun vuoto normativo e nemmeno lacune che giustifichino l'urgenza di nuove disposizioni più che sanzionare la discriminazione si finirebbe con il colpire l'espressione di una legittima opinione come insegna l'esperienza degli ordinamenti di altre nazioni crediamo fortemente prosegue la CEI che oltre ad applicare le disposizioni già in vigore si debba promuovere l'impegno educativo nella direzione di una seria prevenzione su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche ma disponibilità ad un confronto autentico e intellettualmente onesto tra l'altro la Chiesa diocesana ribadisce in un comunicato diffuso oggi che i suoi canali ufficiali di comunicazione sono l'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola il sito web diocesano il bollettino ufficiale Acta Episcopi e il nuovo amico come vedete non c'è in questo elenco il nome di Fano TV quindi significa che questa emittente vive di una autonomia e libertà propria quindi è inutile protestare all'indirizzo della diocesi quando c'è qualche programma oppure qualche iniziativa non gradita come quella che trasmetteremo e che abbiamo in programma questa sera alle 21 e 20 dal titolo DDL che sta per disegno di legge Zan Scalfarotto prove tecniche di regime un programma e una serie di interviste molto interessanti realizzato da Federica Picchi per la Dominus Production oltre ai due ospiti principali la dottoressa Silvana De Mare e il professor Massimo Gandolfini avremo due preziose testimonianze di Luca Di Tolve che ci farà capire quanto pericoloso sia questo DDL per gli stessi omosessuali e Antonio Margini papà di Bibiano a cui hanno tolto i figli con la scusa di essere omofobo e sentiamo prima di salutarci un estratto di questa ultima testimonianza Allora nel settembre 2016 vengo attenzionato dai servizi sociali della Valdenza con una accusa quasi tendenziosa da parte della mia ex moglie ok faccio una piccola premessa la mia ex moglie ho scoperto che la mia ex moglie aveva una relazione con un'altra donna e tra l'altro era risulta essere anche un'amica della Ghinolfi perché è il caso Bibiano adesso non l'ho detto nell'introduzione diciamolo è il caso Bibiano che ha fatto parlare moltissimo la stampa il 18 giugno mi convocano e mi comunicano la Dottorazione che mi comunica che da quel momento in poi io non avrebbe potuto vedere i miei figli se non in forma propretta un'ora ogni 20 giorni a che rimango basito e chiedo scusate ma come mai per quale motivo visto che non c'è né un contesto socio-economico disagiato né violenza su minori né violenza fisica né violenza psicologica io devo capire per quale motivo un provvedimento del genere poi ancora il provvedimento del giudice non c'è e come lo state comunicando voi eh ma arriverà poi il provvedimento del giudice questo è il quattro ma con quale motivazione scusi la Ghinolfi mi dice perché vede la legislazione sta andando in questa direzione e lei se ne deve fare una ragione in quale direzione in quale direzione in direzione gender perché lei è omofobo scusi come omofobo sì perché io quelli come lei li conosco si vede dalla faccia ah sì e che se non si vede dalla faccia ma sì perché se lei vede un ragazzo e una ragazza al parco che si baciano mi fa questo esempio lei sicuramente non dice niente ma se vede due donne che si baciano due uomini che si baciano lei li prende in giro e sghignazza perché ho risposto guardi io se vedo una ragazza e una ragazza al parco che si baciano mi giro dall'altra parte per educazione e per delicatezza qualora mi dovessi imbattere in due donne che si baciano e due uomini che si baciano faccio altrettanto mi giro dall'altra parte sempre per educazione e delicatezza chiaro è che se io sono al parco con i miei figli e vedo due donne che si baciano due uomini che si baciano o vanno oltre non c'entra niente l'omofobia a cui cosa c'entra l'omofobia con me non è il mio caso sì perché lei è così quelli come lei li conosco questo e molto altro dunque nello speciale approfondimento in onda questa sera alle 21 e 20 e su questo ci salutiamo grazie per essere stati con noi l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 con la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti Autore dei sorrisi